1.400 cantieri autorizzati e 250 milioni di euro erogati. Questi i numeri della ricostruzione in Abruzzo nel cratere del sisma che tra il 2016 e il 2017 sconvolse il centro Italia. Ieri all'Aquila, insieme al direttore dell'ufficio speciale per la ricostruzione, Vincenzo Rivera, il presidente Marsilio ha fatto il bilancio dei primi tre anni di governo. Ricordo che quando all'inizio del 2019 è iniziato il mio mandato, nei due anni precedenti erano stati fatti non più di una cinquantina di decreti. Già nell'anno 2019 abbiamo triplicato quel numero, l'anno successivo abbiamo ulteriormente raddoppiato. Quest'anno abbiamo realizzato un numero di oltre 850, vuol dire che abbiamo fatto cinque volte tanto quello che si faceva al ritmo precedente. Il 2021, rispetto all'anno precedente, ha visto un incremento del 256% di pratiche approvate e ammesse al finanziamento. In totale, finora sono state 3 su 5 quelle approvate, pari a oltre 3.700. Altre 4.000 sono attese nei prossimi mesi. Tra le quattro regioni coinvolte dal terremoto, l'Abruzzo da ultimo ha superato il Lazio per numero di domande approvate. Umbria e Marche sono rispettivamente al primo e al secondo posto di questa classifica è perché siamo ancora destinatari del solo 10% della quota di riparto, ha detto Marsilio. La quota però è stata aumentata per quanto concerne il personale. Se nel 2019 i dipendenti dell'ufficio per la ricostruzione erano 18, oggi ne sono 96. Ora attendiamo che la ripartizione sia anche per le altre spese, ha commentato il direttore Rivera. Con dati alla mano in questi anni abbiamo dimostrato che quella quota era sottodimensionata. Abbiamo ottenuto per ora nel personale una maggiore dotazione. Attendiamo che questa quota percentuale di riparto venga applicata anche a tutte le altre spese. A 5 anni dal sisma, da oggi sul sito dell'USR è attiva la piattaforma che permette di seguire in tempo reale l'avanzamento delle pratiche dei cantieri. L'accelerazione è data, oltre che da una maggiore pianta organica, anche dalle semplificazioni introdotte dai decreti sblocca cantieri e rilancio e dalle ordinanze del commissario Lennini. Queste due fattispecie, queste due circostanze hanno portato oggi a un volume di decreti che pare a 20 volte quello del 2018. Entro fine mandato, cioè il 2024, adempiremo a tutte le pratiche, ha promesso Marsilio. Entro la fine del mandato noi avremmo esaurito tutte le pratiche e messo in piedi una ricostruzione reale e concreta del nostro territorio. Rivera invece è più cauto. Il tempo c'è, ma dipenderà dalla risposta del territorio, ha dichiarato il direttore al Tg6.